Credo che abbiamo giocato una partita accettabile per 23-24 minuti, rimanendo attaccati alla partita in tutti i modi. Poi devo dire che in questo momento per noi il livello fisico al quale gioca Milano è difficile da sostenere. Milano ha cominciato a difendere fortissimo e noi ci siamo disuniti nel modo di giocare in attacco e soprattutto perdendo anche riferimenti in difesa. Abbiamo perso troppi balloni con questa Milano, abbiamo perso tanto a ribalzo che purtroppo è un limite che abbiamo da inizio stagione e soprattutto questo è uno sport dove bisogna fare canestro e noi troppo spesso abbiamo sbagliato tiri aperti, costruiti secondo me anche in maniera buona però ripeto, a livello fisico Milano in questo momento è stata decisamente superiore, noi abbiamo tanti giocatori che purtroppo non stanno bene dobbiamo adesso lavorare, sportarci questa partita, far tesoro degli errori, voltare pagina e rimetterci e rimboccarci le maniche senza fare tanti discorsi e metterci a lavorare in vista della prossima partita che per noi è una partita molto importante. Complimenti naturalmente a Milano che ha vinto la partita con grande merito, a tratti anche dominato. No, credo che una delle cose più importanti sia assolutamente avere fiducia, nel senso lo dico con convinzione perché credo che in questo momento i giocatori che naturalmente nessuno va in campo per far male o per non concludere ciò che a mente è.